allora buonasera a tutti grazie al circolo dei lettori di Torino grazie alla casa editrice in Audi per aver organizzato questa serata questo incontro sono veramente molto felice di essere qui stasera a discutere questo lavoro di ricerca uscito da poco nella collana storica della casa editrice un lavoro di ricerca che è durato molti anni questa era la mia vecchia e cara tesi di dottorato che non pensavo assolutamente potesse uscire in un momento così acceso rispetto alle polemiche che hanno segnato questo 25 aprile una cosa che non mi sorprende affatto devo dire gli storici che si occupano di storia della resistenza e di storia della seconda guerra mondiale di antifascismo sanno che da sempre questo paese è attraversato da una serie di di miti di distorsioni di manipolazioni che circolano nel discorso pubblico rispetto a queste tematiche però mai mi sarei aspettata di vedere una polemica così accesa che rimettesse in discussione come se fossimo tornati indietro nel tempo improvvisamente agli anni 90 all'era berlusconiana o addirittura agli anni 50 poi ne parleremo di stasera come se fossimo tornati indietro nel tempo rispetto al tentativo di ricercare una memoria condivisa una memoria votata all'equiparazione delle parti in lotta che avevano segnato quel biennio 43-45 in Italia ora questa sera ne parleremo questa sera io ringrazio Marco Mondini dell'università di Padova che è venuto a discutere questo libro con me e che diciamo con il quale affronteremo tutti i nodi tutte le questioni relative alla eredità della resistenza nella Repubblica perché poi il sottotitolo di questo libro vuole proprio dare già l'idea di che cosa abbia significato in Italia il processo alla resistenza partigiani combattenti che nel 1945 dopo la liberazione vengono trascinati nelle aule di giustizia vengono chiamati a rendere conto di quelli che sono stati atti di guerra considerati dei fuori legge dei delinquenti abituali degli assassini dei vigliacchi dei terroristi o dei colpevoli sfuggiti all'arresto come recita un famoso manifesto pubblicato nel 1944 a proposito dell'azione partigiana di via Rasella e vorrei proprio partire da qui diciamo questa sera per ragionare su sul processo alla resistenza perché lo abbiamo lo abbiamo sentito ben prima della dell'anniversario del 25 aprile riaprire la questione della legittimità storica e morale degli atti di guerra partigiani l'idea che le azioni di guerra partigiane siano state ancora questo è il tema che circola nell'opinione pubblica e nel senso comune delle azioni inutili sul piano militare perché tanto ci avrebbero liberato gli alleati oppure delle azioni dannose addirittura perché i partigiani avrebbero esposto con le loro azioni militari le popolazioni civili ai rischi delle ritorsioni delle rappresaglie naziste e quindi il processo alla resistenza è un processo come ho cercato di dimostrare in questo libro frutto di una ricerca che appunto dicevo è durata tanti anni questa è la mia tesi di dottorato di ricerca che vede ora la luce l'altra faccia del processo alla resistenza è una narrazione a dir poco autoassolutoria del regime fascista una narrazione che avvelena i pozzi della nostra democrazia che tende ancora oggi a definire il regime fascista un regime bonario all'acqua di rose autoritario sì ma non violento come il nazionalsocialismo tedesco che in fondo aveva fatto anche cose buone e coloro che si erano macchiati di crimini di guerra di stragi di eccidi di rastrellamenti militi delle brigate nere della guardia nazionale repubblicana impiegati nei reparti armati della repubblica sociale italiana vengono considerati a partire dagli anni 50 dalla magistratura e anche da un pezzo importante dell'opinione pubblica italiana semplicemente come militari che hanno solo dovuto obbedire ad ordini superiori e quindi non hanno una responsabilità morale e una responsabilità giuridica per quel che hanno commesso buoni padri di famiglia soldati costretti ad obbedire queste sono le giustificazioni che la magistratura trova per assolvere graziare e riabilitare molti responsabili di fatti di sangue avvenuti in italia e allora vorrei partire proprio da qui perché lo abbiamo sentito nei giorni scorsi uno storico che tra l'altro è anche un bravo storico e che ha anche un ruolo importante nello spazio pubblico televisivo franco cardini dire in una trasmissione televisiva che guardano milioni di italiani ogni sera e rilasciare anche dichiarazioni abbastanza discutibili sulla stampa dire che i ragazzi di salò erano bravi ragazzi che in fondo non avevano fatto nulla di male se non aderire per il bene della patria per la difesa della patria alla repubblica sociale italiana ora parte che se volessimo andare a fondo di questa questione dovremmo ricordare a franco cardini tutte le diciamo così la documentazione gli studi che la storiografia ha fatto rispetto al tema delle stragi nazifasciste quindi comunicare quello che la storiografia ha portato alla luce quindi le responsabilità dei militi che avevano preso parte alla guerra di guerriglia antipartigiana sul territorio ma credo che questa polemica sia un po' vecchia sia un po' la stessa polemica che in fondo emergeva nel dibattito pubblico negli anni negli anni 90 no quando il presidente della camera luciano violante nel suo discorso di insediamento da presidente richiamò l'attenzione al fatto che i militi della repubblica sociale italiana erano stati dei ragazzi che avevano soltanto combattuto per il bene della patria quindi ecco vorrei proprio partire da questo da questo tema ecco partiamo da qui vabbè sul bravo storico si potrebbe discutere a lungo ma va bene franco cardini ha avuto un grande ruolo nello svecchiare alcune tematiche nella ricerca di questo paese però ce l'ha avuto 40 anni fa negli ultimi anni fa un po' il suo lavoro da cane di retroguardia ma non è mica l'unico voglio dire un certo fisico noto come divulgatore sto parlando di rovelli non più tardi qualche giorno fa ha detto vabbè ma in fondo i partigiani perché hanno combinato tutto sto disastro in fin dei conti non serviva in fin dei conti da chi abbiamo ricevuto sofferenze morte un po' loro perché causavano la rappresaglia un po' che ci bombardavano se leggete il libro di michela è un po' come ripercorrere l'alfa e l'omega di tutte le distorsioni retoriche da cui noi siamo bombardati ancora oggi in un paese dotato di un minimo di buon senso un certo politico qualche anno fa avrebbe detto un paese normale ma eviterò accuratamente questa espressione alla fine della seconda guerra mondiale i partigiani coloro che avevano militato nelle formazioni che noi definiamo unità partigiane o unità della resistenza sarebbero stati accolti ringraziati congedati ricompensati perché che lo si voglia o non lo si voglia ammettere nel dibattito pubblico è anche grazie ai partigiani o in larga parte grazie all'esistenza di un movimento chiamato di resistenza che questo paese non è stato completamente raso al suolo alla fine del conflitto se l'italia non ha fatto la fine della germania è perché abbiamo avuto un ruolo la cobelligeranza che ci è stato restituito anche grazie all'esistenza di un movimento di resistenza armato il fatto che lo si neghi oggi che lo si banalizzi che lo si marginalizzi è uno di quei paradossi non nuovi che si accompagnano approssimativamente dal maggio del 1945 perché si è cominciato il giorno dopo che le armi sono cessate hanno cessato di sparare ma è nonostante un paradosso apparentemente inspiegabile talmente inspiegabile che è diventato pratica discorsiva luogo comune in fine dei conti vabbè non sappiamo se si ripete una banalità o anche una menzogna e si continua a ripeterla prima o poi si finirà per credersi io vengo da una cittadina bassano del grappa che è stata insignita di medaglia d'oro al loro meritare per la resistenza viale dei martiri dove i superstiti del rastrellamento del grappa nell'estate del 44 vennero impiccati e dove puntualmente ogni sacrosanta fine di scuola che dio mandava in terra i bambini delle elementari me compreso andavano a rendere omaggio ai martiri caduti per la libertà allo stesso tempo io provengo da un'educazione familiare condivisa con la stragrande maggioranza dei figli della comunità bassanese della mia età in cui non era difficile sentirsi dire sì poveri ragazzi sono stati impiccati però in fin dei conti i partigiani erano anche dei gran manigoldi paradossale sì certo anche questo surreale per certi versi allora arrivare all'inizio del ventunesimo secolo e doversi ancora chiedere da dove vengono queste colossali fake news per usare un termine gentile potrei usarne uno meno gentile ma sono in pubblico e diciamo che non cerco di non esagerare almeno non all'inizio è già un problema chiedersi perché delle persone colte che hanno raggiunto i livelli di istruzione più alti di questo paese e che malauguratamente hanno anche avuto o hanno attualmente responsabilità di formare giovanimenti come storici e fisici continuano a propalarle beh dal mio punto di vista esce dal problema storiografico e diventa ma non lo so un problema psicanalitico forse in ambi i due i casi se volete cominciare a cercare una risposta e a trovarla ecco io vi consiglio di cominciare dal capitolo numero uno di processo la resistenza non vi fermerete lì ma comincerete a capire cos'è che è andato storto perché a un certo punto qualcosa è andato storto e quindi michela possiamo cominciare a riassumere cosa diavolo è andato storto in questo paese perché a questi ragazzi per lo più di vent'anni invece di dirgli grazie abbiamo cominciato a trattarli come dei criminali ma in realtà gli diciamo grazie glielo diciamo in senso retorico nel senso che come dici tu nel primo capitolo del libro che io ho intitolato patrioti sotto accusa i partigiani vengono riconosciuti come patrioti combattenti no dalle commissioni alleate viene proprio istituita una commissione di riconoscimento dal dai governi bonomi e dalla commissione alleata di controllo dal governo militare alleato che va a riconoscere tutti quelli che sono stati gli atti di guerra guerreggiati ora è un riconoscimento retorico perché retorico viene tra l'altro organizzata una manifestazione importante all'altare della patria la giornata del partigiano e del soldato nel febbraio del 1946 a te viene da ridere però insomma all'epoca aveva una funzione importante cioè quella di dire simbolicamente che questi nuovi figli della patria avevano lottato per liberare il paese dal nazifascismo e quindi gli si rendevano gli onori celebrando una grande manifestazione che appunto all'altare della patria doveva in qualche modo rendere grazie ai combattenti partigiani il problema è che al di là del riconoscimento formale manca in italia mancano due cose che sostanzialmente hanno a che fare con quella che claudio pavone chiamava la continuità dello stato cioè pezzi importanti degli apparati dell'amministrazione della giustizia passano indenni dal sistema monarchico fascista alla repubblica e quindi accade che mentre Luigi Einaudi nel 1950 si trova a dare la medaglia d'oro al valore militare e la medaglia d'argento al valore militare rispettivamente a Carla Capponi e Rosario Bentivegna che hanno messo a punto l'azione partigiana di via Rasella cioè una delle azioni partigiane militarmente più importanti compiute in una capitale dell'Europa occupata dalle truppe tedesche quei partigiani vengono messi sotto accusa davanti al tribunale civile di Roma e chiamati a rendere conto per quell'azione partigiana quella stessa azione partigiana per la quale sono stati insegnati dei medagli d'oro e d'argento al valore militare perché questo accade accade perché in Italia c'è una magistratura che ha fatto carriera durante il regime fascista e che si ritrova a giudicare coloro che hanno combattuto una guerra irregolare alla macchia una guerriglia clandestina come era appunto la resistenza con le stesse leggi eccezionali emanate durante il ventennio fascista leggi per le quali tutti i partigiani erano per forza di cose delinquenti abituali non potevano essere considerati legittimi belligeranti anche perché viene a mancare un'equiparazione tra i partigiani e i membri effettivi delle forze armate e questo dà la possibilità alla magistratura di giudicare per esempio le fucilazioni di fascisti avvenute a seguito di sentenze emesse dai tribunali di brigata tribunali che vengono istituiti per volontà degli alleati perché gli alleati a un certo punto quando la resistenza finisce quando il paese viene liberato e si avvia la cosiddetta fase post insurrezionale cioè quel periodo che va dalla primavera all'estate del 1945 gli alleati cosa fanno danno ai comandi partigiani il compito di garantire l'ordine pubblico questo significa evitare l'esplosione della collera popolare perché noi non possiamo pensare che vent'anni di dittatura di guerra la guerra civile perché tra il 43 il 45 c'è stata anche una guerra civile nel nostro paese un paese segnato da stragi da violenze da stupri da crimini di guerra improvvisamente tutto quel clima d'odio come una tirata di freno finisca con l'aprile del 1945 il compito importante che i partigiani assolvono è quello di garantire l'ordine pubblico e ci riescono e come se ci riescono tanto che gli alleati danno mandato alle formazioni partigiane di continuare con le operazioni di giustizia dei tribunali di brigata e le commissioni di giustizia che avevano un compito punitivo ma anche rieducativo nei confronti di quei partigiani un po indisciplinati che avevano bisogno di essere educati alla vita democratica che si andava inaugurando perché è tutto in costruzione in quel momento io ricordo una frase che pronunciava ventivegna spesso la diceva noi non avevamo idea di che cosa significasse costruirla una democrazia noi la sperimentavamo giorno dopo giorno questa costruzione noi non eravamo stati educati alla democrazia perché ciò che c'era prima del ventennio fascista non era una democrazia e durante il ventennio neanche meno quindi era tutto una tutta una questione di rieducazione e a torino io ho scritto un capitolo in questo libro che si intitola giustizia partigiana e purazione legale o punizione sommaria perché qui a torino tra l'altro al di là diciamo dei luoghi comuni anti resistenziali che sono stati diffusi da parecchia letteratura nei decenni passati penso ai libri di giampaolo panza penso alla cifra dei 300 mila uccisi nel triangolo rosso 300 mila uccisi boom davvero 300 mila uccisi nel triangolo rosso avrebbe defalcato di circa un quinto la popolazione dell'emilia romagna in quel momento esattamente sarebbe bastato invece che diffondere nell'opinione pubblica questa cifra che è la cifra la narrazione della destra neomissina degli anni 50 che parla di 300 mila uccisi e la narrazione di giorgio pisanò che non è suffragata da nessuna ricerca storica seria la ricerca storica parla di circa 15 mila uccisi tra la primavera del 45 e il giugno del 46 addirittura quindi c'è un lasso di tempo ben differente ma al di là di questo se uno va a guardare le statistiche scopre per esempio che l'emilia romagna non è affatto la regione in cui avvengono di più i regolamenti di conti se vogliamo chiamarle così sono il piemonte la lombardia e il veneto e in piemonte e in particolare nella città di torino il procuratore dell'epoca domenico riccardo peretti griva di cui io cito diversi documenti diverse diversi studi incarica proprio le formazioni partigiane di mantenere l'ordine pubblico e se la collera popolare non esplode come come poteva succedere lo si deve grazie alle formazioni partigiane perché guardate che la collera popolare esplode a roma c'è un esempio eclatante che è il linciaggio di donato carretta donato carretta che era stato il direttore del carcere di regina cieli viene prelevato dalla folla durante il processo contro il questore di roma pietro caruso viene massacrato dalla folla il corpo viene buttato nel tevere ed è la gente comune che lo fa e i partigiani non riescono a frenarla in quel momento quella collera popolare e tra l'altro ci sono delle riflessioni amare che emergono in occasione di quell'episodio da parte degli stessi membri delle formazioni gappiste per esempio che scrivono di questa folla inferocita che vuole giustizia che reclama il sangue che vuole la resa dei conti finale che è la stessa folla che il 25 luglio del 43 aveva distrutto i simboli del regime fascista della stessa folla che aveva acclamato il duce per vent'anni e e questa è questa è un punto importante perché se noi vogliamo restituire un po di serietà diciamo così alla narrazione del passato dobbiamo analizzare quella che è la complessità dopodiché e finisco ti lascio subito la parola i miti le narrazioni le false notizie via rasella è l'emblema di questa mistificazione della storia io dedico un capitolo a via rasella non a caso e lo abbiamo visto nelle recenti polemiche ancora l'idea che circola nell'opinione pubblica poi si fanno queste dichiarazioni e poi si chiede scusa ma intanto queste queste false notizie circolano nell'opinione pubblica e circolano da sempre tanto che creano quella che alessandro portelli ha chiamato il senso comune irrato sulla questione di via rasella qual è questo mito l'idea che il comando tedesco di roma avesse diffuso un manifesto che invitava i gappisti autori dell'azione partigiana di via rasella a consegnarsi per evitare il massacro di 335 persone alle fosse ardiatine un clamoroso falso storico e non lo dico io lo dicono i nazisti a processo lo dice cappler davanti al tribunale militare di roma nel 1948 chiamato alla sbarra per rendere conto di un crimine di guerra perché il massacro delle fosse ardiatine è un crimine di guerra non è una legittima rappresaglia dice che non ci fu né il tempo né la volontà di avvertire nessuno che i tedeschi volevano massacrare in alcune cave di pozzolana abbandonate sulla via ardiatina quindi una zona lontana dagli occhi della popolazione romana 335 persone ed è vero questo non ci fu né il tempo né la volontà eppure ancora oggi questo falso mito dei manifesti circola circola perché se io dico che quei partigiani non si sono consegnati io non solo tolgo legittimità alla resistenza io li accuso implicitamente di essere i veri responsabili del massacro nazista dico che i partigiani sono i veri responsabili per le loro azioni o anche per la loro presenza sul territorio e quindi che cosa avrebbero dovuto fare questi ragazzi e queste ragazze e perché ancora oggi pezzi importanti dell'opinione pubblica italiana e delle classi dirigenti di questo paese credono ancora o fingono di credere a questi falsi storici perché evidentemente c'è un paese che non si riconosce nei valori dell'antifascismo io ho analizzato diverse fonti nel libro non solo fonti giudiziari fascicoli processuali le sentenze ma anche la stampa e per esempio le lettere numerose lettere di cittadini comuni anonimi che a un certo punto cominciano a scrivere a quotidiani a riviste a rotocalchi per dire che i partigiani sono dei delinquenti che vanno processati che hanno solo fatto confusione perché in realtà la patria sarebbe stata salvata dai militi di salò e sono le stesse voci che si ritrovano nelle lettere passate a censura durante le fasi più calde del conflitto quando parti della popolazione civile non danno solidarietà alle formazioni partigiane anzi si scagliano contro la presenza dei partigiani sul territorio perché i partigiani mettono a repentaglio con le loro azioni sconsiderate quella che è l'incolumità delle popolazioni civili e gli archivi sono pieni di queste lettere e questa è una cosa che noi dobbiamo dire perché non possiamo continuare a anche a raccontarci che un paese intero ha dato consenso alla resistenza possiamo dire dobbiamo dirlo che in molti casi senza il supporto dei civili la resistenza non sarebbe stata possibile sul territorio e questo i i nazisti lo sapevano bene tanto è vero che mettono a punto la tecnica della guerra bruciata della guerra casa per casa la diciamo così la guerra di bonifica del territorio no cioè se io non che è militarmente poi tu sei uno storico militare ti occupi di queste cose lo sai se io devo stanare tutti i partigiani che si nascondono e operano una guerriglia clandestina quante truppe devo utilizzare per stanarne uno ad uno non posso farlo in un territorio che non conosco e in un territorio che mi è ostile quindi che faccio vado a colpire e a bonificare il territorio l'habitat dove le formazioni partigiane possono attecchire quindi elimino i civili che possono dare consenso e appoggio ecco perché avvengono le stragi nel nostro paese le stragi hanno una logica militare dietro non possiamo continuare a dire che vengono diciamo sì sono compiute con estrema crudeltà ma non è quello il criterio il criterio è proprio una tecnica militare per controllare il territorio quindi sì c'è una lunga durata di queste diciamo questo uso pubblico della storia e diverse distorsioni e manipolazioni che circolano ancora nel dibattito pubblico e che guarda caso prevedono come altra faccia della medaglia l'idea che in fondo anche i militi di salò fossero dei bravi ragazzi tu hai detto abbiamo una buona parte del paese che non è ancora antifascista giusto per spoilerare la fine del discorso si potrebbe dire che c'è anche una rilevante parte di questo paese che però le cose non le sai i libri non le leggi perché se non si sparirebbero certe boiate voglio dire hai chiamato in causa la dimensione militare della resistenza è uno dei punti da analizzare quando si vuole dare un giudizio su certo tipo di operazioni il problema ad esempio della legittimità o meno dei colpi di mano degli atti di forza in aree urbane che è un problema che gli storici si ponevano negli anni 60 e 70 semplicemente dicendo se i movimenti partigiani in europa perché non dobbiamo mai dimenticare che la storia della resistenza non è una questione italo italiana è una questione europea se dal 39 in avanti i movimenti di resistenza in europa avessero rinunciato all'idea di colpire le forze occupanti ponendosi il problema di quelle che sono invece illegittime rappresaglie perché il diritto di rappresaglia è codificato beh allora non ci sarebbe stata una resistenza a quel punto si toglieva l'idea la possibilità dell'idea stessa di resistere all'occupazione tedesca in europa questo è un punto un punto che normalmente i commentatori pubblici che si scagliano contro il danno creato dai partigiani non tengono presente secondo punto l'hai già spoilerato mentre lo dicevi anche questo non ti si riesce a tenere zitta un attimo il problema del fatto che insomma diciamocelo la maggior parte di coloro che sono sopravvissuti e che avevano preso le parti della repubblica sociale in qualche modo si sono riconvertiti e dopo il 45 improvvisamente non si è più capito chi era con e chi era contro mi fai venire in mente ogni volta che leggo il tuo libro una pagina molto divertente di gigi meneghello gigi meneghello era uno studente laureato a padova che a un certo punto diventa uno dei leader dell'organizzazione resistenziale sull'alto piano di asiago fonda una banda di partigiani quello che lui chiama i quattro gatti e ha raccontato questa esperienza con un certo piglio ironico durante durante una delle sue prime esperienze partigiane lui decide che bisogna colpire un noto esponente fascista di asiago che si chiama il vacca il vacca un tipico cognome del della zona organizzano una banda raggiungono la casa del vacca questo reagisce sparando per una serie di vicissitudini tragicomiche che non vi racconto scappano senza farlo fuori passano gli anni finisce la guerra e meneghello a un certo punto si chiede ma magari a questo punto potremmo anche andare da lui parlarci vedere cosa ha combinato e scopre che il vacca era diventato uno dei leader della resistenza nel maggio del 1945 passando poi per assumere grandi cariche nell'amministrazione della repubblica democratica negli anni successivi ora il problema della riconversione di questo paese non è da sottovalutare perché a un certo punto si sono sfumati i contorni non si è più capito chi lottava per chi lottava contro e soprattutto l'identità della nostra repubblica di a chi fosse debitore ora all'origine di tutto questo c'è un punto una genesi una ragione che tu sfiori spesso nel tuo libro è che è un po' l'alfa di quella lunga storia di cui tu tracci l'omega hai evocato la categoria di guerra civile normalmente noi la categoria di guerra civile la usiamo per descrivere il 43 45 bisognerebbe sempre ricordare che la guerra civile in questo paese è cominciata nell'estate del 14 è andata avanti più o meno fino al novembre nel 22 diciamo pure 23 quando i fascisti trionfanti che avevano a quel punto imposto Mussolini al governo continuano allegramente a massacrare i loro oppositori viene messa un attimo sottosale o sottolio per il ventennio e poi riesplode nel 43 a questo punto riesplodono torpi vendette personali rappresaglie ragioni e ansia di giustizia e tu spesso lo dici molte di questi di questi tentativi di giustizia in realtà vengono da odi lontani da quella cultura dell'odio in questo paese era stata disseminata a mani ampie fin dai tempi del duello tra interventisti e neutralisti e questo è un punto su cui vorrei che tu tornassi l'altro punto però pertiene proprio il problema della mobilitazione e smobilitazione delle culture dell'odio in questo paese si tende a farsi giustizia da soli approssimativamente fino alla primavera estate del 45 se i contorni non sono così netti ma insomma su questo magari se ne può se ne può parlare dopo il problema è che il tentativo di fare giustizia in qualche modo di chiudere i conti con questa lunga guerra civile sembra che si scontri con un fantasma e questo fantasma ha un nome ed è il pericolo russo e siamo ancora lì era il pericolo sovversivo nel 14 il pericolo bolscevico nel 19 e nel 45 stiamo ancora facendo i conti col pericolo comunista è mai possibile che ancora dopo la fine della seconda guerra mondiale si stia ragionando del fatto che il pericolo comunista è una specie di passepartout che scusa tutto beh allora la copertina di questo libro risponde un po a quello che stai dicendo perché la copertina di questo libro non è stata scelta a caso quando trovammo questa fotografia di colpo decisi la copertina del libro è questa perché perché che cosa mostra questa foto mostra delle persone dei giovani che hanno passato una notte evidentemente in galera e dove è stata scattata è stata scattata da badia san salvatore sul monte amiata nell'estate del 1948 subito dopo l'attentato a togliatti subito dopo l'attentato a togliatti il paese esplode ci sono manifestazioni di protesta ovunque ci sono paesi interi che esplodono ci sono partigiani che vanno a riprendere le armi che avevano nascosto perché pensano che sia arrivato il momento di farla davvero la rivoluzione e che cos'è che riesplode da parte delle classi dirigenti il terrore la psicosi della rivoluzione del pericolo bolscevico de gasperi era ossessionato da questo terrore lo scrive nelle diverse lettere al ministro degli interni mario scelva che dà mandato per recuperare tutta una serie di leggi eccezionali o di applicare in maniera rigorosa quelle che sono le norme del codice penale rocco de gasperi da 30 anni che era ossessionato al pericolo bolscevico però però in questo caso diciamo che nell'estate del 48 in un paese intero viene arrestato 250 persone vengono sottoposte a carcerazione per il reato di sovversione armata contro lo stato la polizia i reparti celere vengono inviati in questo paesino di montagna e cercano casa per casa l'esistenza di un documento che dimostri l'attuazione di un piano per sovvertire l'ordine democratico ovviamente non trovano niente di questo genere però intanto si inaugura nel paese un nuovo clima di guerra civile e militanti del partito comunista del partito socialista sindacalisti operai ex partigiani vengono imprigionati vengono arrestati vengono sottoposti a fermo di polizia con l'accusa di essere dei pericolosi sovversivi o dei delinquenti abituali è proprio questo è proprio questo il linguaggio che si usa addirittura vengono schedati di nuovo dal casellario politico centrale e non solo i protagonisti ma anche i loro familiari cioè per esempio un caso che io cito nel libro la figlia di una delle prime donne elette alla carica di sindaco nel 1946 che era riuscita con il suo carisma con la sua passione a fare delle cose importanti nel suo paese a costruire le case popolari a costruire degli asili nido per le lavoratrici addirittura aveva una figlia che partecipava delle manifestazioni di piazza in quell'estate del 1948 e questa ragazza viene licenziata dal lavoro e viene schedata dal casellario politico centrale come una pericolosa sovversiva scusa posso fare una nota a piedi pagina perché non so quanti sappiano tutti cos'è il casellario politico centrale nota disclaimer dicesi casellario politico centrale una simpatica invenzione del ministero degli interni italiano che teoricamente non dovrebbe esistere più ma che esisteva bel belle buono ai tempi del simpatico ventennio in cui venivano schedati tutti i potenziali dispattisti sovversivi criminali pericolosi contro lo stato con dei fascicoli costantemente aggiornati da quel enorme apparato di sorveglianza che caratterizzò soprattutto il ventennio fascista in realtà veniva da prima questa idea che tutti dovevano essere sorvegliati per cui se voi andate ancora oggi all'archivio centrale dello stato e se non mi sbaglio in parte anche digitalizzato trovate questi fascicoli alti normalmente così in cui ci sono vita morte e miracoli di qualsiasi pericoloso sovversivo che avesse mai osato dire un giorno è però il regime fascista non è proprio tutto rose e fiori sì non soltanto teoricamente no però ecco non dovete chiedertelo al ministro degli interni di fatto sappiamo che viene aggiornato fino agli anni settanta ecco tant'è vero che ci sono diversi militanti dell'estrema sinistra che negli anni settanta vengono ancora schedati dal casellario politico centrale ovviamente noi quei fascicoli non possiamo vederli perché sono coperti dalle leggi che regolano la documentazione archivistica però queste cose le sappiamo e sappiamo magari magari sì sarebbe un bel lavoro da fare effettivamente interessante poi finiamo al confino anche noi beh pericolosi sovversivi speriamo di no comunque comunque volevo dire che se noi andiamo a vedere quei fascicoli che schedavano come pericolosi sovversivi con parole che manifestano con parole di odio appunto contro l'ordine democratico sono le stesse motivazioni che per esempio portano alla scheda di Sandro Pertini o di Umberto Terracini o di Mauro Scocci Marro cioè dirigenti di partito antifascisti che hanno scontato sulla propria pelle quella che è scata la repressione del ventennio quindi vediamo quanto è forte la continuità dello Stato no cioè quando parliamo di continuità dello Stato parliamo proprio di questo cioè non è che diciamo così a caso che c'è stato un trapasso di uomini e di apparati tra il ventennio e il sistema democratico repubblicano dopodiché dobbiamo però anche dire diciamo così e qui vorrei ritornare appunto sulla questione perché tu citavi prima delle montature giudiziarie no perché io ho citato nel libro diversi casi che sono delle vere e proprie montature giudiziarie clamorose non ho assolutamente scritto che sono tutti innocenti eh anzi in alcuni casi sono stata fin troppo critica diciamo in alcuni episodi che riguardano la fase diciamo post insurrezionale più calda di conflitto nel 45 però ci sono perlomeno due casi due clamorose montature giudiziarie che emergono dalle dalle carte d'archivio la prima è quella che coinvolge Germano Nicolini Germano Nicolini il partigiano diavolo che aveva liberato Correggio era stato un militare poi aveva si era rifiutato di consegnare le armi dopo l'8 settembre si era fatto un periodo di prigionia poi era ritornato a combattere aveva liberato Correggio nel dopoguerra diventa sindaco di Correggio è un caso clamoroso questo tornato alla ribalta negli anni 90 e adesso vi dico perché Germano Nicolini nel 46 diventa sindaco di Correggio e tra l'altro mette per esempio mette su una mensa del Reduce sfama la popolazione di Correggio anche gli ex fascisti che si ritrovano in difficoltà in quel momento evita che ci sia un regolamento di conti pesante evita che i partigiani della sua formazione a un certo punto fucilino dei prigionieri e delle donne quindi salva la vita anche a dei fascisti che erano caduti prigionieri nelle mani della sua brigata viene accusato di un delitto che non ha compiuto l'omicidio di Don Umberto Pessina e viene accusato sulla base di ricordi vaghi confusi di un testimone che dice di averlo visto di aver riconosciuto in lui il colpevole di questo omicidio e lui si dichiara innocente lo condannano e continua a dichiararsi innocente e a un certo punto il partito comunista lo invita ad espatriare in ciecoslovacchia cioè a trovare rifugio all'estero lui rifiuta perché significherebbe ammettere la propria colpevolezza a scappare si fa dieci anni di carcere innocente è stato intervistato l'ultima volta da Gad Lerner nel 2021 prima di morire all'età di 101 anni di covid e quando è che è stato riabilitato Germano Nicolini? negli anni 90 negli anni 90 a un certo punto i responsabili di quel delitto di Don Umberto Pessina sono miracolosamente emersi e lui è stato riabilitato è stato ricevuto dal presidente Mattarella gli è stata data una medaglia un abbraccio simbolico da parte del presidente Mattarella e lui per tutta la vita ha continuato a dichiararsi innocente però combattente e ha detto una frase veramente significativa prima di morire io sono stato partigiano sempre sono stato partigiano nella guerra di liberazione e sono stato partigiano anche in galera perché in galera dovevo resistere dovevo dimostrare di essere innocente e dovevo dimostrare che i partigiani non sono degli assassini ed è un caso tristissimo perché ancora oggi quando si parla del caso di Germano Nicolini c'è sempre un'ombra che grava sulla sua memoria nonostante appunto questo uomo sia veramente stato vittima di un clamoroso errore giudiziario l'altro caso clamoroso è quello che coinvolge una partigiana una donna che io ho raccontato nel libro una giovanissima ragazza che ha 19 anni aveva aderito alle formazioni gappiste di Bologna veniva da una famiglia contadina molto povera era l'ultima di 12 figli un padre socialista che però era anche un uomo del suo tempo infatti aveva imposto alle figlie femmine di non frequentare la scuola perché tanto le donne avrebbero trovato un marito e quindi non era necessario garantire loro l'istruzione questa ragazza a 19 anni entra in banda per seguire i fratelli e comincia a fare la staffetta in tutta la zona del Bolognese fare la staffetta non era una questione meno rischiosa del combattere con le armi perché a parte che fare la staffetta aveva un ruolo molto importante che le staffette garantivano il collegamento le informazioni, i medicinali, il cibo e tutto quello che serviva per fare la guerra partigiana che era una guerra clandestina finisce la liberazione viene insegnita di una medaglia d'argento al valor militare perché ha combattuto e apre un negozio di merceria insieme alla sorella nel 1951 una mattina vede arrivare due carabinieri che la invitano a seguirla in caserma e viene arrestata con l'accusa di omicidio perché? perché nel frattempo in quell'estate del 1951 hanno ritrovato in una fossa comune i corpi di alcuni fascisti che erano stati uccisi nel 45 e qualcuno dice di aver visto tra i responsabili di quel massacro lei una ragazza dai capelli neri che si chiamava Lola questa è l'accusa che la inchioda basta questo per inchiodarla come responsabile di quel delitto viene portata viene arrestata in attesa di processo si fa 5 anni di carcere preventivo e se li fa nel carcere di San Giovanni in Monte che era per chi conosce Bologna il luogo dove venivano imprigionati gli antifascisti durante il ventennio quindi lei si ritrova nelle stesse celle che hanno ospitato gli antifascisti socialisti gli anarchici che hanno combattuto nel ventennio e in carcere si ammala a un certo punto si ammala di una malattia grave e siccome all'epoca in carcere non si garantivano di certo le cure la mandano in sanatorio il sanatorio dove la mandano è il manicomio criminale di Aversa e questa donna si fa in attesa di processo altri 6 anni dentro il manicomio criminale di Aversa e racconta queste pagine dolorosissime in un memoriale veramente drammatico poi a un certo punto le fanno il processo e l'accusa cade perché non ci sono accuse il processo viene archiviato per insufficienza di prove e questo caso è diciamo così secondo me emblematico di quel clima dell'epoca di veramente una contrapposizione ideologica avvelenata di un anticomunismo feroce che fa perdere la ragione anche a quella classe dirigente che il fascismo l'aveva combattuto a un certo punto io riporto nel libro una lettera di Mario Scelba indirizzata al presidente del consiglio De Gasperi in cui si dice noi dobbiamo assolutamente intervenire con qualsiasi mezzo lecito o illecito di fronte a queste manifestazioni di piazza perché ecco la psicosi della rivoluzione dobbiamo evitare che accada quel che è accaduto nel 1922 nel 1920 dobbiamo evitare che esploda la collera popolare non possiamo rimanere a guardare perché quando siamo rimasti a guardare le violenze di piazza e con le violenze di piazza si riferiva alle violenze dello squadrismo il fascismo l'abbiamo visto sorgere e allora dobbiamo evitare che accada la stessa cosa quindi utilizzare qualsiasi mezzo qualsiasi legge eccezionale e addirittura ci sono all'epoca in carcere si trovavano ancora gli antifascisti che avevano scontato si trovavano scontare delle condanne che erano state emesse nel ventennio per esempio io riporto il caso nel libro di un partigiano di un antifascista che era stato condannato nel 1937 con l'accusa di fuoriuscitismo perché era emigrato in Francia per sfuggire alle persecuzioni del ventennio il giudice che si ritrova a esaminare quel caso lo mettono in carcere perché aveva ucciso uno squadrista nel 37 e quindi il magistrato nel dopoguerra dovrebbe garantire l'amnistia dovrebbe applicare l'amnistia Togliatti e magari no perché attenzione al linguaggio la piaga del furioscitismo si deve condannare anche nella Repubblica perché quelli che sono fuoriusciti non sono fuoriusciti all'epoca perché volevano sfuggire alle persecuzioni del ventennio ma perché volevano fare propaganda antinazionale contro il nostro paese e quindi poi ovviamente uscirà con l'amnistia un'amnistia del 1953 perché nel 53 viene approvato un nuovo decreto d'amnistia ma intanto però l'amnistia Togliatti non se la prende e questo è interessante il linguaggio utilizzato dalla magistratura così come è interessante il linguaggio per esempio di quella magistratura chiamata a giudicare le violenze di cui sono state vittime le partigiane cito soltanto questa cosa poi ti lascio la parola se non dici che parlo troppo no ma quando mai perché c'è un caso a proposito di linguaggio che fa venire i brividi però diciamo che gli storici non possono ecco ragionare con queste categorie devono sempre riferirsi al contesto nel 1947 la Cassazione viene chiamata a riesaminare una condanna di cui era stato vittima un milite delle Brigate Nere accusato condannato in prima istanza e poi anche in appello di aver fatto violentare sotto tortura una giovanissima partigiana da tutti i componenti della sua brigata tra l'altro questa ragazza giovanissima era stata chiamata a testimoniare alle udienze quindi a raccontare e a rivivere quel trauma più volte la Cassazione a un certo punto concede l'amnistia togliati a questo milite perché perché dice che quella violenza non è un crimine di guerra perché queste cose accadevano ovunque tutti gli eserciti le hanno fatte ma è semmai la massima offese all'onore e al pudore della donna e aggiunge anche se avendo vissuto in banda con gli altri compagni era abituata ad una certa libertà sessuale quindi quella violenza nei suoi confronti era una violenza minore e tra l'altro poi questa diciamo così questa giovanissima ragazza verrà chiamata a raccontare la sua vicenda nel nel dopoguerra e questo ci dà un po' l'idea anche di che cosa fosse la mentalità giuridica e la mentalità e la cultura anche giuridica di un pezzo importante della magistratura nel nostro paese e quindi non dobbiamo ecco meravigliarci se poi certe cose sono passate nell'opinione pubblica e hanno avuto una così lunga durata così come non possiamo meravigliarci del fatto che ancora oggi tu prima dicevi che la rappresaglia era prevista dal diritto di guerra certo che è prevista però non è prevista in maniera discrezionale cioè se io vado a massacrare dieci italiani per ogni tedesco ucciso quella è una discrezionalità anche perché lo decido nel corso di una notte all'ultimo minuto e ci sono stati dei casi di strage di CID in Italia con proporzioni anche superiori quindi dobbiamo ragionare anche su queste cose ecco vi sarete accorti fino adesso che in realtà il libro di Michela non è solo un libro sulla resistenza è un libro in cui voi trovate i fili rossi della mentalità della cultura soprattutto delle ossessioni e delle paure che in qualche modo hanno attraversato e attraversano la nostra identità collettiva di italiani della Repubblica vorrei soffermarmi solo su un punto su questo perché è semplicemente uno dei tanti dettagli surreali apparentemente incomprensibili che trovate in questo libro e però vi prego di tenere a mente questa dimensione di estrema complessità del volume perché poi vorrei ritornarci per un'ultima osservazione prima anche di cedere la parola a voi uno dei tanti dettagli apparentemente incomprensibili è quello di aver demandato il riconoscimento di chi era partigiano alle uniche persone a cui non doveva essere delegato come si fa a definire chi è partigiano nell'Italia che è appena uscita dal caravan serraglio dell'ultima sanguinosissima fase dell'ultima stagione di questa lunghissima guerra civile e anche questo è un punto su cui abbiamo detto qualcosa ma su cui varrebbe la pena ragionare perché nel libro di Michela non si fanno sconti la fase finale della guerra civile fu una fase anche di violenze efferate dall'una e dall'altra parte ne successero di tutti i colori fascisti trucidati dopo che si erano arresi partigiani uccisi dai loro stessi compagni di banda eroi che poi sarebbero stati immortalati nei nostri monumenti e nelle nostre medaglie d'oro penso al comandante Masaccio uno dei leader della resistenza sul grappa uno dei luoghi simbolici della resistenza che nell'ultima azione il 29 aprile del 1945 a guerra praticamente finita dico praticamente perché sapete dalle mie parti ci si è allegramente massacrati fino all'8 maggio viene ucciso con una raffica di mitra alle spalle ma senza che ci fossero i tedeschi alle spalle e viene ucciso da uno dei suoi compagni di banda a cui lui aveva detto che l'avrebbe spedito sotto processo perché è accusato di ruberie ne succedono in tutti i colori nell'ultima fase della guerra civile il che non legittima in nessun modo l'idea di delegittimare completamente il movimento resistenziale e questo è un punto il problema è che il passaggio immediatamente successivo apre il vaso di Pandora dei paradossi uno di questi ne cito solo uno è che si decide che a riconoscere la qualifica di partigiano combattente concorrano organismi dell'esercito regolare ora intendiamoci l'esercito regolare del regno del sud ha concorso come la resistenza alla possibilità che l'Italia non venisse ridotta a una Germania spezzettata le forze regolari del regno del sud hanno concorso morendo combattendo sacrificandosi come la resistenza a far sì che questo paese potesse ottenere uno status un po' meno punitivo dopodiché però con un minimo minimo di intuito dovremmo ricordarci che è dai tempi di Garibaldi che i militari regolari detestano qualsiasi cosa abbia a che fare col volontariato i partigiani in un'ottica culturale in lungo periodo non solo sono come li avrebbero chiamati i tedeschi dei banditen non sono solo semplicemente degli irregolari sono dei volontari chi sono i partigiani in definitiva per lo più ragazzi di vent'anni non sempre ma per lo più che hanno fatto una scelta delle armi la guerra di resistenza non l'hanno combattuta perché li mandavano a combattere con le cartoline precetto non hanno obbedito degli ordini dall'alto non ce li hanno mandati i carabinieri o i generali hanno scelto di prendere le armi ora torno all'espressione con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata in un paese sano di mente questa scelta in qualche modo sarebbe stata premiata in Italia questa scelta viene vista con un sospetto abnorme l'idea che un cittadino di questo paese possa scegliere volontariamente di impugnare un'arma per combattere per una causa viene visto come il peggiore dei mali questo è apparentemente incomprensibile ma affonda le radici in uno dei problemi della nostra dimensione collettiva che è quello di un pezzo rilevante dello Stato che ha formato questo Stato a partire dal 1861 parlo delle forze armate regolari che culturalmente ma direi guardate psicologicamente epidermicamente rifiuta ogni idea di volontarietà e allora qui la domanda successiva prima di passare poi alla mia ultima osservazione è ma come diavolo è stato possibile che abbiano affidato proprio a questi pezzi di apparato dello Stato il riconoscimento di quelli che se non erano loro nemici erano comunque dei competitors qualcuno che non si voleva vedere qualcuno che già dopo la fine del risorgimento era stato allontanato in malo modo beh diciamo subito che come vivono la smobilitazione le formazioni partigiane che cosa significasse anche da un punto di vista dell'impatto psicologico per questi giovani giovanissimi che avevano combattuto per tanti mesi ritrovarsi improvvisamente smilitarizzati smobilitati per riconoscerli prima non è che appena si finiva di combattere c'era subito un riconoscimento che veniva dato i partigiani venivano mandati in quelli che oggi chiameremmo campi profughi centri di raccolta ce n'è uno che viene messo su dagli alleati a Roma negli studi di Cinecittà che ne ospita diverse centinaia per esempio e pensiamo che cosa dovesse essere anche da un punto di vista psicologico ritrovarsi senza lavoro senza casa senza una pensione improvvisamente gettati in questi luoghi in attesa di essere riconosciuti e tu dici perché non c'era un'alternativa apparentemente no non c'era a meno che fare la scelta di dare ai capi partigiani il compito di riconoscere i loro i loro componenti e da un punto di vista diciamo così formale per garantire l'obiettività e garantire l'equiparazione che poi di fatto non c'è di partigiani a membri delle forze armate sono gli stessi militari di carriera a presiedere le commissioni che devono garantire il riconoscimento dei partigiani come si veniva riconosciuti i partigiani esistevano intanto tre diverse categorie i partigiani combattenti i patrioti e i benemeriti i partigiani combattenti per essere riconosciuto partigiano combattente anche qui un linguaggio molto maschile molto militare oserei dire perché poi le donne partigiane che verranno riconosciute combattenti saranno 35.000 che è un numero che fa sorridere se noi consideriamo tutte le donne che hanno combattuto a vario titolo perché combattere nella guerra di resistenza non significa soltanto impugnare le armi significa garantire i collegamenti significa fare operazioni di sabotaggio significa garantire quello che dicevo prima l'operatività di una brigata sul territorio e quindi i partigiani combattenti devono dimostrare di aver compiuto almeno tre azioni di guerra guerreggiata poi ci sono i patrioti che possono dimostrare di averne combattute di meno e poi ci sono i benemeriti che sono quelli che hanno dato soltanto assistenza diciamo così però c'è una cosa importante che volevo ricordare che mi è venuta in mente prima quando parlavi della scelta e del perché ancora oggi si fa fatica a dare senso e a rispettare quella scelta in qualche modo che non fu una scelta scontata perché noi oggi sappiamo com'è andata a finire però all'epoca questo non lo si sapeva cioè fare quella scelta la scelta di resistere di aderire alle formazioni partigiane che non è una scelta scontata non è una scelta che avviene una volta per tutte perché nel corso delle varie fasi della guerra di liberazione ci sono anche dei passaggi c'è chi decide a un certo punto di non combattere più oppure c'è chi decide di combattere non immediatamente dopo l'otto settembre e infatti si parla della grande estate partigiana l'estate del 1944 quando da poche decine di migliaia che sono i banditi cosiddetti come li chiamano i tedeschi nell'ottobre del 43 si arriva a sfiorare un numero importante nell'estate del 1944 sono giovani e giovanissimi che sono nati e cresciuti durante il regime e anche qui c'è un discorso importante da fare perché rispetto alla prima generazione degli antifascisti cioè coloro che hanno vissuto il carcere e il confino nel ventennio che pure sono espatriati in Francia che hanno combattuto in Spagna che si sono rifugiati in Unione Sovietica che hanno sulle spalle una passato importante da resistenti e da perseguitati sono lontani da molto tempo dall'Italia e non sono più in grado di capire quelle che sono le complessità di un regime che ha avuto consenso perché il consenso ce l'ha avuto e molto e non sono in grado di organizzarla la guerra partigiana di fatto c'è a un certo punto proprio un contrasto tra generazioni di antifascisti tra i primi antifascisti e questi giovani che sono cresciuti durante il ventennio che vogliono e decidono di usare anche le armi perché di fronte a quella che è una guerra terroristica come quella messa in atto dai nazisti sul territorio italiano bisogna prendere le armi non si può rimanere a guardare non si può rimanere c'è una lettera di Franco Calamandrei che io che io cito nel libro in cui lui dice che a un certo punto si doveva rompere anche con l'attendismo della prima generazione degli antifascisti quella che pensava che non si dovesse utilizzare in qualche modo la violenza ed è però ci tengo a dirla questa cosa perché questo è un discorso che arriva ad incendiare ancora oggi il nostro presente quando noi parliamo di scelta dobbiamo dire che non fu una scelta scontata e che fu una scelta molto sofferta e molto dolorosa che questi ragazzi non erano giovani esaltati che avevano voglia di giocare alla guerra e non si ponevano il problema delle ritorsioni nei confronti dei civili e non si ponevano il problema della responsabilità di quello che poteva accadere se lo ponevano e come tant'è vero che bisogna convincerli bisogna istruirli a un certo punto ci sono i capi della resistenza come Gioacchino Gesmundo professore di lettere e filosofia in un liceo romano che poi sarà fucilato alle fosse erdiatine Gioacchino Gesmundo in casa sua li addestra ai futuri gappisti li convince li deve proprio convincere da un certo punto di vista a rompere quella moralità perché è giunto il momento di dare una risposta forte definitiva e risoluta a una violenza che è molto più grande della violenza che i partigiani andranno ad attuare ed è una violenza che espone le popolazioni civili a massacri e a crimini di guerra questo però non significa che quella scelta non continui ad essere una pagina dolorosissima per tutto il corso della vita di un partigiano e guardate io ho avuto una lunga amicizia durata tanti anni con Rosario Bentivegna poi il suo libro di memoria è stato anche pubblicato da Inaudi fu un lavoro lungo un lavoro complesso mi ricordo riuscire a tirargli fuori il dolore la sofferenza tutto ciò che aveva subito e tutto ciò che continuava a provare quando negli anni 90 a un certo punto ve lo ricorderete in Italia viene estradato Eric Pritch il responsabile uno dei responsabili della strage delle fosse erdiatine improvvisamente si riaccende la polemica contro i cappisti autori dell'azione di Mirasella tra l'altro è interessante dire che sui giornali all'epoca circolava più o meno questa versione un povero vecchio che in fondo in gioventù non aveva fatto altro che obbedire ad ordini superiori e contro il quale la magistratura militare si accaniva in realtà la magistratura militare non saccani affatto perché il primo processo Pritch si concluse con l'idea che in fondo se ne poteva tranquillamente ritornare in Argentina perché tanto non aveva fatto altro questo militare in gioventù che applicare ordini superiori dovette intervenire l'allora ministro della giustizia Giovanni Maria Flick e la comunità ebraica di Roma che assaltò letteralmente la sede del tribunale militare evitando che Pritch se ne potesse tornare in Germania fu fatto un secondo processo e Pritch fu condannato all'ergastolo per omicidio pluri omicidio continuato e aggravato a danno di 335 italiani quindi la strage delle fosse ardiatine e in quell'occasione si pensò bene di non solo rimettere sotto accusa a livello d'opinione pubblica i partigiani che avevano compiuto l'azione di Via Rasella Rosario Bentivegna e Carla Capponi che erano tra gli ultimi sopravvissuti di quell'azione partigiana cominciarono a ricevere delle lettere anonime con minacce di morte ci fu un quotidiano in questo paese lo posso dire perché l'ho citato nel libro il giornale che pubblicò l'indirizzo di casa di Rosario Bentivegna che si ritrovò persone che lo minacciavano sotto casa per Roma giravano durante il processo Pripche dei manifesti palesemente illegali con la faccia di Bentivegna e sotto scritto pericoloso assassino ricercato per l'omicidio di 335 italiani allora questo ci dice che cosa ci dice che quella scelta così dolorosa così carica di responsabilità noi non l'abbiamo mai compresa fino in fondo perché se ancora oggi cominciamo a far polemica si fa polemica sull'utilità l'inutilità la responsabilità l'irresponsabilità va bene siamo d'accordo poteva anche essere utile da un punto di vista militare l'azione di Vierasella ma in fondo era così utile e poi se era utile e non potevano porsi il problema che ci sarebbero state delle ritorsioni certo che se lo ponevano ma vogliamo dire una cosa e vogliamo dirla tutta che a Roma si contava una media di otto attacchi militari al giorno che Roma era una città esplosiva che il comando SS di Roma agli ordini di Kappler non aveva mai preso nessuna azione di controguerriglia partigiana di quel genere che il 10 marzo del 44 nel centro di Roma via Tomacelli i gappisti avevano lanciato delle bombe a mano contro un reparto di militi della Guardia Nazionale Repubblicana che usciva in corteo dal Teatro Adriano perché aveva commemorato la morte di Giuseppe Mazzini e a seguito di quell'azione non era stata presa nessuna misura di rappresaglia anzi l'unica l'unico provvedimento emanato dal comando tedesco era stato quello di dire ai fascisti evitate di fare manifestazioni all'aperto perché siete bersaglio facile dei gappisti delle formazioni partigiani ma al di là di questo sono i nazisti che si nascondono dietro il dito delle responsabilità degli ordini ricevuti perché Bentivegna ha sempre detto se mi avessero cercato certo che mi sarei presentato armato l'avrei fatto alla mia maniera con le armi pronto a combattere e invece non ci fu nessuna ricerca di responsabili nessun tentativo di chiamare in causa i responsabili semplicemente si tratta di una clamorosa di una clamorosa fake news così come clamorosa è la fake news della banda musicale come hai rubato le parole di bocca grazie per averlo fatto un'altra volta allora fino a qua ci siamo accorti di due cose fondamentali primo processo la resistenza è un portale sulla storia profonda della nostra identità repubblicana secondo processo la resistenza è un libro di un'estrema complessità perché si parla di dottrine militari si parla di processi si parla di continuità degli apparati statali si parla di casellario giudiziario centrale di quello che sappiamo almeno si parla di donne quelle stesse donne che quando Alba viene liberata decidono di sfilare armate e i capi delle bande partigiane vorrebbero che non lo facessero e le donne per usare un'espressione tipica delle mie parti gli dicono Dea Remengo e sfilano armate si parla di azioni di guerriglia urbana e si parla di testimoni e sopravvissuti si parla di amnistie e si parla di tanti paradossi insomma tanti fili da annodare tante storie che ci portano dentro il grumo dei problemi irrisolti della nostra memoria collettiva quello che Michela chiama l'eredità della guerra partigiana dentro questa repubblica e allora siccome per usare un'espressione invece vostra romana si è fatta una certa e forse anche il momento è arrivato di dare la parola a voi io vorrei farti un'ultima domanda lievissimamente provocatoria giuro però mi assicuri che rispondi in maniera sintetica concisa noi oggi conviviamo con cariche dello Stato che ci dicono che a Via Rasella c'era la banda musicale del dopo lavoro conviviamo con professori universitari o ex tali che ci dicono che tanto ci liberavano gli alleati oppure viceversa che ci dicono che noi eravamo alleati dei tedeschi e in fin dei conti gli alleati non facevano altro che ammazzarci conviviamo con una serie di frottole diciamo se la tutta una volta per tutte che ammorbano il nostro dibattito pubblico perché perché non andiamo mai a vedere i fatti perché i fatti non ci vengono spiegati con dovizia il ci ovviamente è tutti noi e non vengono soprattutto utilizzati per costruire il linguaggio le parole d'ordine delle nostre discussioni quotidiane in un libro complesso come questo si trova molto materiale non per ribattere alle frottole no no proprio per zittirle e allora la domanda che ti volevo fare è questa perché la maggior parte di noi noi nostri colleghi noi storici quando decide di avere a che fare mica facile con il cosiddetto dibattito pubblico di questo paese invece di cercare di rispondere lanciando mattoni pesanti e complessi come questo a volte decide di scendere sullo stesso terreno degli slogan urlati invece di rispondere con la complessità sembra che sia diventata una pratica lecita in questo paese che lo storico che per sua definizione è uno studioso che si misura tutti i giorni con la complessità con lo sfuggente con l'irrisolto ecco sembra che lo storico per partecipare al dibattito pubblico debba scrivere anche lui cento pagine scritte larghe e basate su slogan perché perché la complessità fa paura la complessità è difficile da raccontare è difficile da snocciolare nel dibattito pubblico è anche vero che gli storici nel dibattito pubblico hanno poca presenza questo noi lo sappiamo bene nel senso che è un'arma a doppio taglio per tanto tempo si è detto che qualche anno fa Antonio Carioti sul Corriere della Sera pubblicò un articolo in cui diceva che gli storici avevano una grande colpa quella di non essere nel dibattito pubblico perché non sapevano comunicare ora magari questo non è esattamente vero così come è vero che nelle redazioni dei talk show dei programmi televisivi si potrebbe fare un po' più di attenzione alla competenza quando si parla di certe tematiche magari invitare delle persone che qualcosa l'hanno studiata certo che non Cardini in questo caso ma Cardini potrebbe anche dire altre cose perché Cardini però dice quelle cose attenzione secondo me non è a caso perché Cardini è un uomo intelligente sa perfettamente comunicare sa che cosa chi quale messaggio vuole vuole comunicare e vuole forse gettarsi all'interno di un dibattito o recuperare terreno su un dibattito che sta pericolosamente andando verso la ripresa nell'idea della memoria riconciliata dell'equiparazione delle parti lotte esattamente come era ai tempi di Violante di Fini perché poi a me è sembrato veramente clamoroso che Fini dovesse intervenire a un certo punto per dire l'ovvio cioè guardate che questo tema della messa sotto accusa dell'antifascismo è un tema ormai che la destra dovrebbe aver superato perché c'è stata Fugi perché abbiamo più volte tentato una equiparazione negli anni 90 e infatti oggi si parla addirittura di memoria europea riconciliata come se le memorie potessero essere riconciliate le memorie sono di per sé divise è giusto che sia così perché ogni persona se noi dovessimo fare un sondaggio in questa sala ogni persona ha la sua memoria ogni gruppo sociale ogni gruppo politico ha la sua memoria è giusto che sia così essere di parte è un valore in una democrazia sono le dittature che impongono il pensiero unico però forse sarebbe arrivato il momento di dire una cosa che a me sta molto a cuore dire e forse sarebbe giunto il momento di arrivare ad una memoria collettiva di quei fatti che è ben diverso dal dire memoria riconciliata o memoria condivisa cioè una memoria collettiva perché i fatti sono andati in un certo modo riconoscerlo e andare avanti con la consapevolezza che è dal 46 che la Repubblica ha accolto come cittadini anche coloro che avevano lottato con la Repubblica sociale italiana che non c'è nessun rischio di ritorno del fascismo in questo paese che la nostra democrazia ha radici solide perché è sopravvissuta a Piazza Fontana è sopravvissuta a Piazza della Loggia è sopravvissuta alla strage di Bologna è sopravvissuta a tanti fatti drammatici e quindi ci sono delle radici forti e però non possiamo continuare a non riconoscere che la più grande vittoria della nostra Repubblica è stata l'aver accolto nella vita democratica anche chi nella Repubblica non si voleva riconoscere come cittadini però non come fascisti che è una cosa diversa molto diversa così come non si può dire che il movimento sociale italiano ha traghettato gli italiani nella democrazia che cosa significa? Il movimento sociale italiano ha avuto in questo paese un ruolo importante è stato parte della vita repubblicana di questo paese era un partito con una grande rilevanza parlamentare era un partito che negli anni settanti è arrivato a sfiorare l'11% dei consensi che ha eletto perlomeno due presidenti della Repubblica che ha fatto parte della vita di questo paese e che facciamo ci svegliamo oggi col dire che c'è il rischio del ritorno del fascismo la nostra storia dobbiamo conoscerla dobbiamo conoscerla nella sua complessità e riconoscere che c'è stata una transizione pesante una continuità dello stato pesante e con questo dobbiamo fare i conti senza continuare a sviare il dibattito a parlare d'anticomunismo che non c'entra niente a me è capitato l'altra sera in un dibattito televisivo che è seguito da milioni di italiani e a un certo punto mi sono sentita dire che l'antifascismo sarebbe responsabile delle violenze di piazza nei confronti dei giovani d'estrema destra degli anni settanta l'antifascismo e che la costituzione non ha non contiene la parola antifascismo e allora mi è venuta una battuta perché poi da buona romana non potevo farla non potevo insomma evitarla la battuta che il presidente dell'assemblea costituente si chiamava Umberto Terracini e non è che era stato scelto a caso a presiedere i lavori dell'assemblea costituente se voi leggete l'atto originale della costituzione la firma è di Umberto Terracini Umberto Terracini è l'emblema della persecuzione del regime fascista perché si è fatto 21 anni tra carcere e confino e perché era stato messo lì a presiedere l'assemblea costituente perché rappresentava la lotta antifascista da cui ha origine la nostra repubblica democratica che però ha accolto anche gli altri ha accolto tutti e quindi diciamo che se volessimo fare una battuta che poi è una battuta che usa spesso anche Emilio Gentile Repubblica abbatte fascismo uno a zero insomma quindi questo credo che sia ciò che noi dobbiamo ricordare è una battuta che è una battuta che è una battuta che è una battuta Grazie a tutti.